Sono state rese note dal direttore sportivo Sandro Pertile le convocazioni per l'ultima gara di Coppa del Mondo a Schoenach, Germania, di salto con gli sci in chiave l'azzurra. I tre atleti parteciperanno alle gare tedesche, ovvero Aaron Kostner, Alessandro Pittin e Dennis Parolari che gareggeranno il 24 e il 25 marzo. I tre istricolore si cimenterà prima dal trampolino HS106, successivamente ci sarà la prova di sci di fondo su un percorso lungo 10 chilometri. La Coppa del Mondo di Combinata Nordica è stata già vinta dal nipponico Akito Watabe con due gare di anticipo. Difficilmente ci saranno cambi in classifica nelle posizioni di testa, con Jan Schmid secondo a 1.083 punti, Fabian Riesle terzo, con 991, poi Johannes Riesle che i organ Grabach rispettivamente con 826 e 735 punti. Il primo degli azzurri è Pittin che occupa la ventiquattresima posizione ma potrebbe recuperare qualche posizione, si spera, in quest'ultimo round.